Scusate, non riesco a parlare, tanto che mi viene da ridere che non riesco a parlare, è incredibile, c'è arrivata ora la notizia che Allegri è l'allenatore del mese, nel mese in cui si è sancita la bocciatura totale della Juventus in Europa, esclusa dalla Champions League, per tre partite vinte, cioè Allegri è l'allenatore del mese, una cosa inguardabile. Quando su un aforisma una persona ride, il problema non è dell'aforisma, vado avanti, da quando ti conosco il giorno più bello è stato il giorno prima. Scusate, non riesco a parlare, tanto che mi viene da ridere che non riesco a parlare, è incredibile.